La zalea della ricerca di fondazione AIRC fiorisce per dare forza ai ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. La forza delle donne è il messaggio che AIRC vuole trasmettere attraverso questa campagna per tutto il mese di maggio. 20.000 volontari dei 17 comitati regionali tornano in oltre 3.600 piazze domenica 14 maggio anche per fornire informazioni sulla prevenzione età per età. L'iniziativa anche a Matera. Ormai la zalea è il simbolo della lotta contro i tumori femminili. C'è un incremento dei tumori purtroppo però dobbiamo necessariamente continuare nel sostegno alla ricerca e dobbiamo comunque ribadire che c'è stata una sopravvivenza del 50% di tutti i tumori nel giro di 5 anni. Quindi è vero che il dato può essere preoccupante però è anche vero che la ricerca fa dei progressi enormi. È fondamentale ed è importante la prevenzione. Lavoriamo sulla prevenzione e porteremo a casa un grande risultato. Lavoriamo sulla prevenzione e porteremo a casa un grande risultato.